benvenuti al film per media comunicazione siamo con naima artista super eclettico che qui investe di sono in veste e investe ok bene dobbiamo abbiamo tutti noi cosa ne pensi di questa fiera internazionale ma mi sembra veramente una grande occasione per fare delle grandi cose Genova è finalmente protagonista nel mondo con una fiera internazionale della musica e chi meglio di coloro che sono qua presenti potrebbero rappresentare se stessi per conto degli altri qualche progetto tuo dai dici qualcosa la cosa che vi posso dire è che avete appena visto vedrete o forse non vedrete mai tre cose abbiamo un po di klezmer con i toia matka uno spin off super eclettico dei tua madre che suonano musica ebraica yiddish ma io sono vestito così perché sono reduce da un piccolo concerto relativo a frank sinatra un omaggio di teatro musica sui grandi cantanti confidenziali degli anni 40 50 e 60 dopo aver fatto Ray Charles Buscaglione Carosone anche il nostro sinatrone è stato omaggiato in questi molto interessanti concerti che io non vorrei mai vedere però purtroppo devo cantare quindi sono costretto a partecipare e tua madre l'invasione dei Tordoputti il primo e speriamo non ultimo disco di brani inediti originali che tua madre hanno rilasciato a novembre dell'anno scorso verrà presentato in anteprima serale perché è già stato fatto in altre occasioni altrove il disco qua sul palco blu il palco principale della fiera internazionale della musica li vedremo intorno alle nove e mezza o se non li potrete vedere vabbè non è che interessi poi così tanto tutto sommato però siamo molto contenti di tutto questo e vi ringraziamo per essere stati con noi averci voluto bene dal profondo del cuore e se volete ancora seguirmi mi troverete domani domenica non so se questa roba andrà in diretta sarà tagliata chi lo sa chi lo sa chi lo sa ti faremo dire tutto il contrario ci sarà comunque un seminario domani per chi lo vedrà martedì sarà tre giorni prima all'ore cinque sulla consultazione il modo di parlare di prendere decisioni e il management interno della band che terrò io qua nell'area seminari benissimo manca soltanto praticamente la televisione poi penso che i media sono tutti abbiamo le radio abbiamo mille etichette abbiamo praticamente tutto il panorama musicale quindi e soprattutto abbiamo artisti come te ti ringrazio ti ringrazio anche io vi ringrazio e mi ringrazio una mia volta per essermi messo nei panni nelle vesti che dicevi tu no meglio vestiti che nudi in certi caso grazie ciao